ciao anche noi qui per fare l'ice bucket challenge dunque come nominees per gli oscar abbiamo lorena volpe la mia amicissimissima soffonda e aggiungerei anche ilena così chiudiamo bene il video e avete 24 ore per farvi fare un bel gavettone come saprò fare io mi cavo anche le scarpe due enjoy ma che cazzo mi vieni via la scappa sto prendendo tempo in realtà la bella può toccar a me bella col calzino su me cade a ton Oh, il cellulare è flotta tutta l'età! è venuta bene? buona la prima